Allora, benvenuti a questa nuova sessione pomeridiana, vi presento i due relatori che faranno un loro intervento molto interessante, anche questo sull'intelligenza artificiale e come potrebbe essere un supporto per capire come va un progetto. I relatori sono Marco Caressa, famoso che da 30 anni ha esperienza nella gestione dei grandi progetti e programmi di trasformazione digitale in contesti complessi, è un autore, è un blogger articolista, è un trainer, un mentor, un coach in materie manageriali e come sappiamo è attivo su LinkedIn, su YouTube dove come ama lui definire e poi spiega il lato pop del project management. L'altro relatore è Massimo Pirozzi, nostro consigliere direttivo di CPM, è stato per più di vent'anni un top manager nel settore dell'ICT e oggi fa divulgazione nel campo del project management e lo fa attraverso l'istituto ma anche attraverso il project management world journal dove è executive team, è anche autore e cautore di diversi libri e ha più di 30 pubblicazioni nei diversi paesi anche fuori dall'Italia. Ed ha per questo ricevuto anche molti riconoscimenti internazionali. Lascio parola a Marco e Massimo e buona continuazione. Grazie. 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 Emanuele. Grazie a tutti e tutti voi per essere qui intervenuti. Io e Marco ormai sono di un paio d'anni che collaboriamo felicemente. Abbiamo scritto un libro, diverse pubblicazioni internazionali. Ovviamente ci sono tutti i nostri riferimenti. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un aspetto che nel project management è fondamentale. Cioè parliamo di decisione e di supporto alla decisione. In realtà qualsiasi azione che facciamo è governata da decisioni. E di come possiamo migliorare questo processo. Sia magari misurando delle cose che oggi non troppo si misurano. Ma sia anche utilizzando le ultime tecnologie a supporto. Bene. Nel project management cosa sappiamo? Sappiamo che per gestire davvero un progetto. Gestire davvero significa gestirlo e non esserne gestiti. Come purtroppo spesso succede. Dobbiamo strutturarlo, pianificarlo, realizzarlo, controllarlo. Beh, strutturarlo magari in fasi. Dandogli un certo impianto. Pianificarlo, stabilendo dei riferimenti. Realizzarlo, supportando delle realizzazioni. Certamente controllarlo con degli indicatori. Controllare un progetto non significa certo andare a botte di stati di avanzamento. Che di norma avvengono con un bel ritardo rispetto a quanto ci servirebbe. Ma più che interessarsi di cosa sia accaduto. Interessarsi di cosa stia accadendo. E mandare effetto eventualmente le necessarie modifiche. Tutto questo diciamo accade sempre. Cioè in realtà non c'è nessun automatismo. C'è sempre un fenomeno di supporto. Di decisione. Ogni gruppo di processi. In qualsiasi sia l'approccio preditivo, dattivo o ibrido che utilizziamo. È preceduto da una decisione. Così come anche ogni fase. È preceduta da una decisione. Ne le chiamiamo gate. Porte che si aprono e si chiudono. Andiamo avanti o non andiamo avanti. Quindi la decisione è fondamentale nel project management. Tutte le nostre azioni sono precedute da una decisione. Che è naturalmente umana. Beh, come stanno andando i progetti negli ultimi dieci anni? Allora cominciamo diciamo dalla situazione un po' più attuale. Questi sono dati del project management institute. E quindi soprattutto con bacione di riferimento Stati Uniti. Se guardiamo l'Italia certamente è molto peggio. I progetti che vedete nel 2020 sono al netto di quelli sospesi per pandemia. Beh, vediamo che il 15% sono fallimenti dichiarati diciamo da chi proprio li fa. Quindi dei project manager e loro executive. Se lo chiediamo ai clienti magari sono di più. Il 30% numero enorme non soddisfano gli obiettivi iniziali per cui sono stati finanziati. anche perché il 35% spiegamenta scope clip cioè aumenti abnormi di requisiti rispetto a quello previsto. E il 40% va fuori budget e il 55% va in ritardo. Quindi sicuramente i progetti risultano investimenti ad alto rischio. Ma se andiamo avanti e in particolare diciamo, non mi va avanti, aiuto, ok. Guardiamo che cosa è successo negli ultimi dieci anni. Negli ultimi dieci anni non è così diversa la situazione. E allora viene spontaneo dire, d'accordo siamo aumentati come maturità nel project management però questo è stato compensato da un aumento della complessità delle cose. Ma se sono dieci anni che le cose vanno così, sono evidenti mancanze o errori sistematici. Cioè qualcosa che non facciamo o che potremmo fare meglio. Quindi magari non monitoriamo e controlliamo qualche indicatore chiave. Questa è una certezza, li stiamo per vedere. Oppure dobbiamo in generale migliorare il sistema di monitoraggio e controllo anche in termini di supporto alla decisione. Cominciamo dal primo punto. Nella vista tradizionale dei progetti, investiamo delle risorse e otteniamo dei deliverables. Il valore generato nel progetto, output, è la somma dei deliverables dei vari work package. Questo è un po' un'illusione perché in realtà i work package sono fra loro in relazioni non lineare, a parte diciamo il tempo. Ma non è naturalmente solo questo il valore che il progetto crea e scambia. No? Perché? Come funziona la cosa? C'è un dominio delle aspettative con un valore percepito. E' un po' curioso diciamo che nel project management noi ignoriamo il fatto che qualsiasi cosa noi compriamo compriamo sulla base di un valore percepito. Certo è influenzata anche da un costo di realizzazione. Ma no? Dalla benzina al pane alla casa tutto diciamo a un prezzo che in funzione di quanto noi pensiamo sia giusto pagare. Nei progetti apparentemente diciamo ce ne dimentichiamo. Allora da una parte fortunatamente adesso lo diciamo anche nelle norme. L'obiettivo di un progetto è una combinazione deliverable output che sono sempre diciamo combinazioni deliverable outcome che invece sono cambiamenti apportati dal progetto stesso. L'introduzione del progetto genera diciamo dei cambiamenti con spiegabilmente degli effetti positivi. Quindi abbiamo un aspetto di valore generato che è quello che conosciamo meglio. Lo vediamo proprio dalla work breakdown structure in maniera molto nitida. Valore generato sono i deliverable, la somma del deliverable dei singoli work package. Questo come sappiamo lo utilizziamo con il grande diciamo aiuto che è il value oppure negli approcci dattivi per esempio con la burn up chart. Qui il valore generato è la somma del valore generato nei vari work package. Però poi c'è il valore precipito. Cioè quindi gli stakeholder determinano il successo di un progetto. Certamente ci vogliono i deliverable quindi gli output ma poi ci aggiungono quello che è il loro livello di soddisfazione. E questa è una misura che non facciamo normalmente mai. Non misuriamo sistematicamente per esempio il valore percepito dalle stakeholder in termini di business, in termini di valore sociale, in termini di qualità percepita naturalmente. Piuttosto che di innovazione, sicurezza e sostenibilità. Sono tutti parametri in cui noi pensiamo di realizzare una cosa senza diciamo invece tenere conto di questo. Mentre invece il valore percepito è determinante perché purtroppo può essere sia positivo che negativo. Quindi possiamo anche correre il rischio di andare indietro rispetto al progetto. Poi c'è l'integrazione tra il valore percepito e il valore generato. Noi ci diciamo sempre il project manager fa tre grandi cose. Il coordinamento è questo, vabbè vediamo la VBS c'è chiaro no? Ci sono i responsabili dei vari work package e tutto questo ci è chiaro. Poi invece diciamo c'è la comunicazione sicuramente visto che spende 80-90% del suo tempo al comunitare e poi c'è l'integrazione. Ma l'integrazione come si misura? Tanto che vuol dire che secondo la Treccani stiamo parlando di rendere intero, completo o idoneo a uno scopo ciò che non lo è aggiungendo quanto necessario. Ecco dobbiamo aggiungere quanto necessario. E questo già ci fa dire che naturalmente visto che tutte le cose sono in relazione non lineare fra loro c'è un qualcosa da aggiungere. Non è solo la somma dei work package. C'è il valore percepito e c'è il mettere insieme tutto questo. Che quali sono gli indicatori che servono in questo caso? Sono quelli che si userebbero a progetto finito. Quindi gli indicatori di valore di business o sociale che misurerebbero le prestazioni del progetto. Se le possiamo misurare oggettivamente lo facciamo anche se ovviamente non è prestato di avanzamento. Se no ci accontentiamo anche di una percezione soggettiva è sempre molto meglio. questi KPI hanno grandissimo vantaggio di essere espressi nelle linguagge commettenti. E questo facilmente crea per esempio engagement. Poi diciamo quando abbiamo fatto le cose per bene misurando anche i termini di valore cosa che evidentemente normalmente non facciamo. È vero che ogni progetto è unico e ripetibile ma guarda caso se andiamo poi a vedere ci sono alcune deviazioni tipiche rispetto a quello che pianifichiamo. o atteso, diciamo, ne abbiamo trovate insieme a Marco sei, che derivano da sei tipi di problematiche diverse. Problematiche come di manodopera interna, di procurement, di beni o di servizi diverso, di integrazione come abbiamo detto. Una assolutamente trascurata, ottenimento di autorizzazioni, permesse e approvazioni. Le firme, no? Che a volte tendiamo a considerare un atto scontato e non lo è per niente. Sono dei work package da gestire e in generale anche il valore percepito. Le problematiche di manodopera interna, molto diffuse, ci vengono di solito segnalati da SPI in fegore 1, in qualche caso anche CPI in fegore 1. Le cause principali, beh, sottostime nella baseline. Quindi qui tocca ripianificare oppure una minore produttività del team che sono o problemi di management da risolvere o, se è necessario, aggiungere risorse per compiere i tempi. Poi problematiche di ottenimento, autorizzazioni, permessi, approvazioni, eccetera. Le firme, no? Le firme degli stakeholder, dei campi, piuttosto che dei committenti. Che tendiamo a considerare un atto dovuto automatico, no? Noi facciamo le cose e quello firma. Non funziona così. Questi sono dei work package, veri e propri, che vanno misurati, che vanno gestiti e misurati. C'erano degli aspetti di relazione fondamentali, possono, di solito sono rilevati appunto da CPI di valore percepito inferiori alla soglia e, ovviamente, in qualche caso anche che comincia a diventare critico, dei ritardi. Quindi S.P.A. in fegore a 1 e quindi di solito problematiche di disallinamento di aspettative rispetto ai requisiti con eventuale ripianificazione e esecuzione. Nelle problematiche di approvvigionamento dei beni e dei servizi grandi e responsabili di tantissimi ritardi, anche se non so perché non gli si dà di solito abbastanza importanza. Allora, nel caso dei beni il problema è che hanno dei cicli più lunghi e quindi li possono fare più male. I servizi di solito hanno dei cicli più brevi, anche come monitoraggio, quindi possiamo accorgercene un po' più per tempo. Però in tutti e due i casi, per esempio nei beni, di solito abbiamo un S.P.A. in minori di 1 e paradossalmente un S.P.A. maggiore di 1 perché non stiamo spendendo soldi, se quello non consegna, non fattura, noi non stiamo spendendo. Nei servizi, comunque, l'S.P.A. è inferiore a 1 e qui c'è poco da fare, inserire degli ulteriori elementi di controllo, ma possiamo aspettare la consegna per poi approvvigionarsi da fornitori alternativi e o aggiuntivi. Nel valore percepito, di solito determinato, con interviste, questionari, eccetera, e quindi indicato a un valore percepito al di sotto della soglia stabilita, di solito qui ci sono disegnamenti rispetto alle aspettative degli stakeholder, con quindi, diciamo, verifiche degli requisiti, verifiche allenamento fra requisiti e aspettative, eventuali ripianificazioni. Le problematiche di integrazione sono il discorso evidentemente più complesso perché i processi integraggiscono tramite input-output e contesto, quindi, diciamo, non sono in relazione lineare. Noi siamo abituati a vedere le relazioni lineare sui tempi, no? Li mettiamo in un bel articolo logico, diciamo, quando è finito uno comincia un altro e questo, vabbè, no? E' bello, deterministico, eccetera. Per tutto il resto non funziona così. Le relazioni sono fra input e output e sono non lineari fra loro. Fra l'altro cambia il contesto, cambia il risultato. Allora, quindi, qui, spesso gli indicatori, come sono SPI e CPI minori di 1, qui le problematiche maggiori sono sui work package critici, e in questo caso bisogna anche, siccome le risorse non sono mai infinite, darsi una priorità, non fare una priorizzazione, di, oh, qua, dobbiamo investire a recuperare queste cose, possono esserci problematiche di management o di project management, perché no, e quindi con necessità di organizzare le cose, per esempio anche ristrutturando il progetto, utilizzando anche approcci livelli, o problematiche di relazioni con gli stakeholder. Per poi procedere anche qui a verifica dei requisiti, verifica di lamento fra requisiti aspettativi, le requisiti di solito sono noti, le aspettative no, e così via. In definitiva abbiamo sei tipologie principali di azioni, sei casuali, in cui passiamo da risoluzioni e problematiche di management, perché anche queste ci stanno, perché altrimenti ognuno farebbe i progetti, nessun progetto è un compitino o una somma di compitini. Ogni progetto è complesso e deriva dall'interazione di elementi complessi. Quindi, problematiche di management da risolvere, incremento di risorse che è la cosa più semplice, miglioramento della relazione e comunicazione, procurement alternativi e aggiuntivi, cosa dolorosissima, però a volte inevitabile, quando abbiamo a che fare con i fornitori, priorizzazione degli interventi, perché non essendo risorse infinite dobbiamo guardare i work package critici, e molto spesso abbiamo questo problema che noi abbiamo capito dei requisiti formali o formalizzati in un certo modo, non sono quelli o il committente non li intende così, o ha delle aspettative diverse, c'è da riconciliare il tutto, eventualmente per pianificare ed eseguire. Ognuna di queste azioni si basa ovviamente su, diciamo, dei dati. Quindi certamente possiamo anche ristrutturare il progetto utilizzando, per esempio, approcci adattivi o ibridi che riducano l'ampiezza delle fasi temporali e quindi aumentino le frequenze di controllo e quindi modificare il sistema di toraggio e controllo. Tutto ha bisogno di dati e vediamo anche come possiamo, diciamo, gestire questi dati in modo opportuno. Grazie. Allora, si sente? Si, si sente. Dunque, il quadro che ha descritto Massimo è abbastanza a tinte fosche, cioè l'abbiamo visto. I progetti falliscono, falliscono in grande percentuale e abbiamo provato ad identificare quelli che sono alcuni dei motivi per cui i progetti falliscono. Poi ci sono diverse statistiche su questo. Allora, verrebbe da dirsi, ma se il project management e decision making, l'abbiamo visto prima, no? Si decide sempre sul progetto cosa si deve fare, cioè io faccio qualcosa, decido di fare quella cosa e non ne faccio un'altra. Allora, andiamo un po' alla radice del concetto di decisione, cioè come prendiamo decisioni in generale e come lo facciamo sui progetti, come potremo migliorare le decisioni che prendiamo e soprattutto nuovi strumenti che sono un po' sulla cresta dell'onda, come l'intelligenza artificiale generativa, quindi large language model alla chat GPT per intenderci. Come possono aiutarci? Massimo prima ci diceva, la decisione è sempre dell'uomo. Finora sì, vi posso dire già che è un ni, forse tra qualche mese può essere un no o anche un forse, pensiamoci. Nel senso che noi dovremmo cominciare a ripensare completamente gli strumenti di supporto alla gestione, perché finora la differenza tra Excel e Oracle Primavera è semplicemente nella complicazione delle funzioni che vi mettono a disposizione, ma sono tipicamente strumenti di supporto, non prendono decisioni al posto nostro. Invece qua ci cominciamo ad affacciare sul mondo dove gli strumenti saranno in grado di suggerirci delle decisioni, come vi farò vedere poi nell'ultima parte. Quindi i dati, allora andiamo alla radice delle decisioni. Il digitale ha un ruolo fondamentale su questo, perché la trasformazione digitale, cioè l'ingresso dell'informatica del digitale in tutti i processi di prodotto e di servizio, quindi in tutti i progetti, consente di generare molti più dati rispetto a prima. Cioè un progetto oggi è in grado di generare molti più dati strutturati e non strutturati di quanto non facesse prima, grazie all'utilizzo di queste piattaforme. Perché l'essenza stessa della trasformazione digitale sono i dati, ok? La trasformazione digitale è guidata dai dati. Le applicazioni, le piattaforme generano enormi quantità di dati, i cosiddetti big data, che da qualche decina d'anni noi elaboriamo con i cosiddetti analytics, c'è tutto il mondo della business intelligence che si basa su questo. Quindi io da un ammasso di dati più o meno informi, senza grande significato presi singolarmente, vado a fare delle elaborazioni per tirare fuori delle informazioni che invece abbiano una semantica, un significato, le informazioni che mi dovrebbero servire per prendere delle decisioni migliori. Ma voi come le prendete le decisioni? Facciamo un test. Quanti di voi in questa sala per alzata di mano hanno una qualche preoccupazione quando dovendo andare da un posto all'altro debbano prendere l'automobile? In termini di sicurezza, non di traffico, perché quella ce l'ho pure io. Cioè se devo far raccordo, già sono preoccupato in partenza. In termini di sicurezza, di safety, uno, due, c'è qualcuno. Ora, quanti di voi sono anche solo un po' preoccupati quando salgono la scaletta dell'aereo? Siate sinceri. Non sto parlando di fobia del volo, ma anche solo di quella sensazione di ansia che vi prende perché ecco, siete sicuramente di più. Quindi se voi doveste decidere nell'andare da A a B, se prendere l'automobile o l'aereo, magari scegliereste più facilmente l'automobile. E questa non è una decisione razionale, è una decisione di pancia. Perché tutte le statistiche ci dimostrano da decenni che l'automobile è un mezzo meno sicuro dell'aereo. ma noi pensiamo all'incidente aereo, al fatto che l'aereo cade e muoiono 150 persone tutte insieme, non pensiamo allo stilicidio continuo di incidenti stradali che fanno sì che, diciamo così, già quest'anno in Italia credo siano morte più di 6.000 persone solo per incidenti stradali nel fine settimana. Quindi noi non prendiamo le decisioni con la ragione, le prendiamo di pancia. Non è colpa nostra, ci hanno disegnato così, ci hanno fatto così. Noi abbiamo due sistemi nel nostro sistema nervoso, un sistema più antico, il sistema limbico, che è quello che ci fa reagire rapidamente, che ci fa prendere le decisioni distinto. E poi abbiamo invece una parte del nostro cervello, la neocorteccia che si è sviluppata più o meno negli ultimi 70.000 anni, che è quella che ci fa ragionare le decisioni razionali. I due sistemi hanno velocità completamente diverse. Il primo sistema è rapido, era quello che ci doveva far scappare o far combattere quando eravamo cacciatori e raccoglitori. È quello che oggi ci spingerebbe a saltare alla gola del nostro manager quando fa qualcosa che non ci piace. Il sistema neocorticale invece è quello che dice no, buono, fermo, insomma non è il caso che tu faccia questo. Se ne è parlato molto, vi cito solo Daniel Kahneman che probabilmente conoscerete, premio Nobel per l'economia proprio con uno studio nel 2002 su come si prendono le decisioni in ambito finanziario che non venivano prese e probabilmente tuttora non vengono prese in gran parte sulla base di razionali ma molto su base emotiva. E lui parla di due sistemi. Sistema 1, quindi veloce, inconscio, decisione di impulso e sistema 2 invece più lento, conscio, consapevole e quindi ma anche più affidabile. Quindi secondo me, ma ora non so qual è la vostra esperienza, in gran parte prevale il sistema 1 anche sui progetti. Cioè il fatto dell'automobile o dell'aereo è uno schema che si ripete anche quando noi prendiamo decisioni sui progetti perché per esempio se un'azienda è abituata a lavorare su commessa difficilmente investirà in un progetto per la realizzazione di un prodotto o servizio innovativo anche se tutti i dati del mercato gliela danno come un'opportunità che potrebbe essere utile perché non sono abituati, non hanno una grande propensione al rischio. Sono abituati a impegnare costi e risorse forse solo se c'è un cliente che mi ha fatto un ordine. Allora si fa il progetto. Altrimenti il progetto chi lo paga? Viceversa una startup invece ha una propensione al rischio molto più alta evidentemente. Ma l'esempio 2 è quello forse più frequente e significativo. All'inizio del progetto c'è una decisione fondamentale che dobbiamo prendere che è quella se farlo partire o meno. Gran parte dei fallimenti di molti progetti dipendono dal fatto che quel progetto forse non doveva neanche partire o doveva partire con condizioni diverse. Però all'inizio del progetto siamo tutti ottimisti vediamo solo l'obiettivo da raggiungere. In realtà non è successo nulla, ancora non si è verificato nulla abbiamo il bias della previsione positiva cioè tendiamo a sottostimare eventuali minacce o problemi tendiamo invece a sovrastimare le opportunità. E tipicamente questo si riflette sulle stime. i progetti vanno in ritardo, costano di più perché le stime sono sbagliate perché quel progetto non era realmente sostenibile invece noi abbiamo pensato che potesse esserlo a seguito di tutta una serie di messaggi anche sbagliati gettiamo il cuore oltre l'ostacolo è strategico, ora non sto qui a ripetervi le cose che sentiamo nelle nostre aziende invece di fare un'analisi un po' più razionale e della reale sostenibilità di quel progetto quindi si decide di pancia continuamente anche nei progetti e questo è lo schema che noi dovremmo seguire per prendere decisioni una specie di imbuto, un funnel come direbbero quelli che fanno marketing dove da un lato entrano i dati i dati generati dal progetto e raccolti attraverso le varie strumentazioni software di supporto al PPM eccetera questi dati attraversano questo imbuto questa pipeline vengono elaborati, aggregati, sintetizzati fino a fornire delle informazioni che poi ci dovrebbero consentire di prendere delle decisioni migliori sul fatto che oggi si generano molto più dati che in passato pensate a cosa succede nell'ambito delle costruzioni dove l'utilizzo dei sistemi GIS e BIM quindi Geographical Information System e Building Information Modeling consentono di generare una mole enorme di dati che prima non c'era su quel progetto che aiutano, supportano nelle decisioni in qualsiasi fase del progetto dall'inizio alla fine addirittura i modelli realizzati con i sistemi BIM ci aiutano anche dopo la fine del progetto per gestire le attività di manutenzione sull'opera o sull'edificio quindi quando il progetto è già stato consegnato questo è un esempio di ciò che dicevamo prima della capacità amplificata di generare dati proponiamo una sorta di framework che è un parolone in questo caso nel senso che è semplicemente un'applicazione di buon senso che ora vediamo un minimo nel dettaglio di come dovremmo prendere delle decisioni e sono dei semplici passi un primo passo è quello di raccogliere dati è la prima cosa non è un passo semplice perché un progetto genera tantissimi dati noi abbiamo potenzialmente centinaia di metriche di misura con cui raccogliere i dati dobbiamo scegliere quelle più rappresentative ed adeguate per il progetto che stiamo gestendo in questo caso il consiglio è non inventatevi l'acqua calda esistono già delle metriche di misura standardizzate se le usano gli altri vuol dire che in qualche modo funziona quindi non facciamogli originali a tutti i costi quindi la precedenza metriche consolidate da letteratura e soprattutto che abbiano un legame solido con gli obiettivi del progetto poi la raccolta dei dati non è soltanto questo ma significa anche decidere il processo di raccolta cioè definire quali strumenti di rilevazione dei dati utilizzo e di raccolta con quale frequenza misuro queste metriche giornaliera, settimanale, oraria e poi chi ha la responsabilità del dato so che la parola responsabilità è qualcosa che spaventa sempre tutti però bisogna pur definire chi sarà il responsabile della raccolta e di questo processo step numero 2 alla fine dello step 1 noi abbiamo una serie di dati grandi più o meno come dire indistinti dobbiamo elaborarli per tirare fuori l'informazione e qui c'è tutto il tema degli analytics strumentazioni più o meno sofisticate per andare a filtrare, aggregare, sintetizzare, elaborare e presentare questi dati e infine abbiamo lo step 3 dai dati abbiamo ricavato un sotto insieme di informazioni significative a questo punto usiamo queste informazioni per prendere decisioni e qui abbiamo due possibilità la prima è sulla base delle informazioni raccolte ci fermiamo ci confrontiamo sul momento e prendiamo una decisione facciamo un meeting ci confrontiamo con qualcuno eccetera quindi la decisione la prendiamo all'ultimo momento utile e questo noi lo chiamiamo data informed cioè è una decisione che deriva dai dati è informata tra virgolette ma non è automatica l'altra possibilità invece è quella che chiamiamo data driven dove noi avviamo automaticamente delle specifiche azioni di gestione in funzione delle informazioni raccolte cioè io mi prefiguro prima degli scenari possibili in funzione delle informazioni che ho raccolto che mi determinano uno di questi scenari decido in anticipo quali azioni metterò in campo in funzione dello scenario che mi si manifesta in sostanza è come se io prendessi le mie decisioni in anticipo io sto implementando delle regole di gestione che poi automaticamente determinano l'azione di gestione che io voglio fare ve lo esemplifico se ho un progetto di sviluppo software io potrei dire nel data informed io faccio cosa beh rilevo se ci sono dei bug dei problemi nell'applicazione che devo rilasciare mettiamo che ci siano allora facciamo un bel meeting una riunione di team e diciamo vabbè lo rilasciamo questo software o no i bug che ci sono sono bloccanti o non sono bloccanti sono sostenibili o non sono sostenibili rientrano negli slack che ci ha dato il cliente o no comunque lo decidiamo lì oppure potremmo dire prima guardate se a seguito dei test non ci sono errori bloccanti e se gli errori non bloccanti sono al di sotto di una certa soglia andiamo comunque a rilasciare quella versione cioè prefiguriamo dapprima fin dall'inizio uno scenario se c'è quello scenario non devo prendere una decisione sul momento l'ho già presa prima quindi è come se la decisione noi non la prendessimo in quel momento l'abbiamo già fatto in funzione degli scenari che prefiguriamo e questo è il data driven vantaggio è che ovviamente ragioniamo molto siamo molto più reattivi perché la decisione la prendiamo immediatamente è automatica ma è una decisione ragionata non è una decisione che io ho preso sotto la pressione del momento o con l'emozione l'ho ragionata prima è come nella matrice di Asenauer-Covey non mi devo far sopraffare dall'urgenza ma dall'importanza quindi io non aspetto che le cose diventano urgenti le decisioni le prendo prima quando ho tutto il tempo per meditarle e poi le applico semplicemente questo è un po' il principio che dovremmo provare a seguire e in tutto questo ultima parte come si può aiutare l'intelligenza artificiale in particolare quella generativa qui c'è un elenco che peraltro è generato da chat GPT va confessato tranquillamente delle modalità con cui può aiutarci a gestire i progetti basta chiedergli come potresti essere utile nella gestione del progetto tu o un sistema simile a te e questo è più o meno ma queste sono liste che trovate dappertutto allora quello che abbiamo fatto provato a fare è di preparare un saldo di progetto quindi la riunione di stato avanzamento lavori in cui si relaziona gli stakeholder sull'andamento del progetto dicendo va bene, va male cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare usando chat GPT come se fosse un team member cioè un compagno di team un esperto di queste cose per farci supportare vi dico subito che questa cosa io l'ho fatta 15 giorni fa ma stiamo parlando di temi ad elevatissima rapidità di obsolescenza la velocità con cui questi sistemi stanno evolvendo in termini di feature è spaventosa io sono un utente plus di chat GPT quindi a pagamento ricevo praticamente ogni giorno una comunicazione sulle nuove feature che ci saranno dalla prossima settimana chat GPT non si limita più a informazioni ferme al 2021 ma potrà accedere ad internet tra due settimane il prompt non sarà più solo testuale ma sarà anche con immagini cioè sarà come il passaggio dalle interfacce a caratteri dell'utilizzo dei pc alle interfacce con le finestre e col mouse ma con una potenzialità molto molto più alta quindi io questa sessione l'ho ripetuta ieri sera per essere certo che fosse aggiornata e poi presentarvela step numero uno no allora il SAL che è devo rappresentare lo stato del progetto lo voglio fare usando il metodo principe di valutazione che è il metodo earnet value che immagino conosciate più o meno tutti quindi ho preparato un foglio Excel di un progetto fittizio un progetto fatto di una serie di attività rappresentate da una VBS a due livelli qui li vedete su un'unica vista sono i dati di valore pianificato di valore guadagnato e di costo effettivamente sostenuto che vi faccio vedere in un'unica vista ma nel file Excel che ho preparato io erano su tre fogli diversi e poi ho detto a ChatGPT qui quindi è lo step uno di raccolta dati i dati che stanno qui dentro sono stati raccolti magari da altri sistemi da sistemi di rendicontazione aziendali eccetera chiedo al chatbot che cosa? di sostanzialmente gli carico il file e gli dico guarda ti ho caricato un file Excel dove troverai questi dati vedete questo è tutto il mio prompt è una spiegazione molto dettagliata perché non è che ChatGPT voglio dire io devo spiegargli le cose nel dettaglio come farei con un collega a cui spiegassi dettagliatamente i dati che gli sto dando e quello che mi aspetto e gli dico troverai un file Excel fatto così con queste informazioni eccetera eccetera risposta me lo carico ok ho capito ho caricato il file esaminato ho capito cosa c'è dentro ok adesso cosa ci facciamo con questi dati con questa informazione io gli faccio fare intanto delle verifiche di congruenza cioè gli chiedo verifica che la somma dei valori degli elementi figli corrisponda ai valori riportati per gli elementi padre cioè il valore di actual cost di un'attività se quell'attività è composta da sotto attività deve coincidere con la somma degli actual cost delle sotto attività quindi gli faccio fare una verifica di congruenza dei dati avrei potuto farla io all'esterno la faccio fare al chatbot il quale mi trova effettivamente che per un'attività c'è un'incongruenza cioè il valore di actual cost di un'attività padre non coincide con la somma dei valori di actual cost delle attività figlia e allora gli dico senti siccome mi torna scomodo adesso correggere il file excel ricaricarte lo chiedo senza che io correghi il dato e ricarichi il file sei in grado di correggere nei dati che ti sei caricato il valore dell'elemento padre con vbs code 1.1 con il valore x invece di y lui dice certamente nessun problema non devi ricaricarmi il file faccio io questa correzione a questo punto cosa facciamo benissimo si è caricato tutti i dati iniziamo a fare l'analisi genera per tutto il progetto il grafico lineare per le prime sette settimane vi ricordate prima in quella tabella no? ci avevamo 12 colonne un progetto di 12 settimane ipotizziamo di essere alla fine della settima settimana quindi i valori del pianificato sono per tutte 12 i valori ovviamente dell'actual cost e del net value sono solo per le prime sette settimane perché siamo alla fine della settima settimana gli chiedo di generarmi un grafico con le curve AS le famose curve AS di planet value earned value actual cost e di calcolarmi per ogni settimana i valori degli indici di performance SP e CP quindi sui tempi e sui costi attenzione non gli dico come fare gli dico semplicemente mi calcoli queste cose ipotizzando che sappia come si fa in effetti lui mi spiega guarda farò così sommerò i valori ogni settimana poi calcolerei SP il bello di questo strumento è che se gli fate la domanda bene vi spiega in anticipo come farà quell'operazione per darvi modo eventualmente di correggere il prompt questo è l'esito mi sono fatto generare un file html scaricabile che quindi posso prendere e mettere nel mio report o mettere sul sito sul portale di progetto navigabile dove ho le curve ad S per le prime sette settimane dei tre valori e dove se vado col mouse sopra una singola settimana mi fa vedere i valori di CP SP not bad no? non male tutto sommato fin qui non ho fatto niente in tre minuti mi ha fatto l'analisi del progetto entriamo un po' più nel dettaglio gli chiedo rispetto all'intero progetto in quale settimane su quali attività si cominciano eventualmente a presentare criticità sui tempi cioè iniziamo a essere un po' più puntuali e me lo spiega ma mi spiega anche come farà e dice allora mi chiedi criticità sui tempi allora farò così troverò l'attività per la quale il valore di SP diventa minore di uno prima delle altre e in quale settimana che è proprio quello che farei io se dovessi fare questa cosa ed effettivamente me lo fa e poi gli chiedo la stessa cosa sui costi e mi identifica qual è l'attività che per prima le criticità sui costi qui si sta ancora scaldando i muscoli e poi chiedo adesso analizzando per l'intero progetto la situazione alla fine della settima settimana mi dici quali sono le attività più critiche su cui posso ancora intervenire non è una domanda banale perché significa intanto non considerarle tutte ma considerare le attività che ancora non sono completate cioè se ti chiedo quelle su cui posso intervenire significa sono quelle ancora in opera effettivamente se ne rende conto dice identifica le attività che hanno un cpi o un spi inferiori ad uno alla settima settimana ma attenzione solo quelle che hanno ancora del lavoro pianificato da svolgere quindi esegue un ragionamento assolutamente logico lo stesso che seguiremo noi e questo è il risultato e me le ordina per criticità cioè mi mette al primo posto quelle che hanno i valori degli indici di performance più bassi che sappiamo essere tanto più sono minori di uno tanto più la situazione è critica e mi dice anche insomma mi da una spiegazione mi dice questa è critica sia sui tempi che sui costi questa è leggermente in ritardo ma è al di sotto del budget e quest'altra invece è in linea con i tempi ma oltre budget non male neanche qui attenzione non dobbiamo prendere per oro colato tutto quello che ci dice un chatbot quindi io ogni passo ho verificato poi manualmente che effettivamente fosse vero cioè che le risposte che mi da fossero vere questo perché ci possono essere degli errori nei calcoli e ci possono essere quei fenomeni che si chiamano di allucinazione no? quindi il large language model ogni tanto vi tirano fuori delle risposte che che non c'entrano tanto con quello che gli avete chiesto tutto verificato e alla fine dico va bene facciamo così mi generi il report di sal cioè gli chiedo di generarmi questo è il mio prompt un po' insomma come dire verboso gli chiedo di generarmi in formato html navigabile un documento riassuntivo composto da queste sette sezioni una sezione titolo una sezione con una breve descrizione del metodo che ha seguito per fare l'analisi il procedimento di calcolo il grafico con le curve ad esse analisi delle attività critiche azioni ipotizzabili di rientro cioè gli chiedo pure ma te che faresti a fronte delle criticità che hai riscontrato sul progetto che azioni potremmo intraprendere questo è il risultato documento in sezioni navigabile anche questo un html che potrei prendere piazzare sul portale di progetto progetto e farlo vedere agli stakeholder ok questa è la prima parte questa è la seconda e questo è l'esito poi finale delle azioni di rientro ripeto qui ancora non abbiamo preso decisioni stiamo analizzando il problema la decisione chi la prende ovviamente la prendo io se sono project manager però capite bene che un conto è prendere una decisione facendosi da sé tutti i calcoli basandosi solo su excel o su microsoft project un conto è prendere una decisione interfacciandosi con qualcosa che alla lunga diventa quasi indistinguibile da un compagno dello stesso team di lavoro evidentemente quindi step 3 prendiamo le decisioni gli ho chiesto allora sulla base dell'analisi che hai effettuato per mitigare le criticità di progetto che tu hai riscontrato che cosa faresti? questo è il risultato mi genera ora sono tre pagine mi ha generato una trentina di suggerimenti suddivisi per tematica di cui alcuni sono abbastanza come dire accademici ovvi cioè sei in ritardo cerca di recuperare tempo facendo questo o quello però attenzione ce n'è uno guardate questo riallocazione delle risorse sul primo gruppo il secondo mi ha fatto un ragionamento sia pure su base stocasti a me non interessa che sia senziente che provi sentimenti o che tiri fuori una cosa del genere in modo stocastico o casuale direbbe Red Butler nell'ultima scena di via col vento francamente me ne infischio quello che mi interessa è il risultato che mi dà e mi dice guarda attento però che l'aggiunta di risorse supplementari quando riallocchi le risorse su attività in ritardo può accelerare la realizzazione ma è importante considerare la legge di Brooks che afferma attenzione che se un progetto software se aggiungi più persone sull'attività in ritardo rischi di tardarla ancora di più vi posso assicurare che più della metà dei project manager IT che conoscono la legge di Brooks manco sanno che è nel senso che direbbero direbbero è in ritardo va bene pigliamo delle risorse dall'altra parte come se le persone fossero pedine o patate non è così soprattutto nelle attività intellettuali se stessi piastrellando il mio terrazzo so che mettendo un operaio in più velocizzo ma su attività complesse di tipo intellettuale non è così quindi per me già un risultato di questo tipo è un risultato di rilievo significativo adesso non vi leggo gli altri ma comunque sia da una serie di suggerimenti che possono essere un punto di partenza cioè non è che io li prendo per oro colato ma possono essere alcuni di questi un punto di partenza per ulteriori indagini esami e appunto ed analisi su cosa su cosa fare ok quindi monitoraggio comunicazione coinvolgimento degli stakeholder decisioni specifiche alla fine poi da buon chat bot politicamente corretto mi mette il disclaimer che mette quasi sempre cioè sappi che però queste decisioni e strategie dovrebbero essere valutate attentamente considerando il contesto specifico del progetto le priorità gli obiettivi e dovresti discuterle concordarle con i tuoi pari eccetera cioè della serie non prendere per oro colato quello che ti dico e poi dopo ha chiuso con una postilla che secondo me fa parte di quelle allucinazioni che i chat bot sostanzialmente ogni tanto danno e cioè ha detto e comunque le decisioni su cosa fare e le devi prendere te che sei un umano e mica posso fare tutto io io mi sono svegliato alle sette meno un quarto stamattina la bambina ha fumitato tutta la notte quindi questa è una citazione del grande Guzzanti diciamo che potrebbe essere un'allucinazione che chat GPT potrebbe metterci in coda però questo non secondo me non inficia quello che abbiamo visto ripeto io non sono un fanatico un entusiasta di questi sistemi però è difficile non rimanere impressionati dal livello di supporto che oggi noi siamo in grado di ottenere con sistemi di questo tipo e questo livello di supporto è destinato ad aumentare esponenzialmente perché un po' la concorrenza sul mercato oggi ci sono diversi player entrerà sul mercato anche Amazon acquistando Antropic che è un'altra azienda che fa sistemi di questo tipo è la lotta tra Microsoft OpenAI Google con i suoi sistemi con Bard e con questo Gemini di cui si favoleggia e poi Amazon con Antropic ne vedremo delle belle se ci vedremo il prossimo anno se gli amici di CPM magari ci inviteranno nuovamente chissà tra 12 mesi che tipo di supporto alla gestione di progetti potremmo far vedere per cui non stiamo dicendo che questo mi sostituisce stiamo dicendo che però mi da un supporto che non è un semplice supporto passivo nel momento stesso in cui ho un'entità che mi da dei consigli mi fa un'analisi sulla base dell'analisi mi da delle dritte che io dico caspita hanno un senso magari le indago maggiormente beh voi capite che inizia a essere difficile non considerarlo come un membro effettivo del vostro team grazie se ci sono delle domande chiaramente siamo ben contenti ora non so che ora abbiamo fatto se siamo in anticipo puntuali spero che siamo a posto se c'è qualche eventualmente qualche curiosità siamo ben felici di rispondere prego allora io avevo una curiosità legata alla seconda parte l'ultimo a questo esempio che hai fatto vedere e cioè in generale nell'intelligenza artificiale chi la usa è molto empatico col sistema proprio perché proietta significato su quello che dice il sistema allora mi chiedo quanto tu hai detto tutto quello che ha fatto lui ovviamente l'avrei potuto fare io ci avrei messo più tempo però mi chiedo quanto sia invece importante il fatto che tu lo consideri come una sorta di collega con cui dialogare e in cui magari in questo dialogo ti vengono in mente delle cose che se ragionavi da solo non avresti non avresti pensato cioè quanto è importante l'aspetto della psicologia di chi lo utilizza oltre alle informazioni che lui ci dà la legge di Brooks sul libro diciamo Mitical Manmonte che lui avrà letto da qualche parte quanto c'è una componente di dialogo non con me stesso ma con un mio con qualcuno che io ritengo pari e che mi aiuta a sviluppare meglio le mie idee Grazie è un'ottima domanda questa in realtà io credo che ciascuno si ponga un po' a suo modo nei confronti di questi sistemi e certamente rischia tra virgolette rischiano di svilupparsi una sorta di empatia verso un'entità che in realtà non c'è che non esiste è uno strumento molto sofisticato il discorso è la modalità di interazione che ovviamente favorisce questo personalmente io cerco di essere open-minded nel senso che mi prendo quello che lo strumento mi dice non lo do per oro colato però nel colloquiarci mi rendo conto che finisco col colloquiarci come farei con un collega però il discorso della legge di Brooks che è un esempio è vero in quel caso lo strumento recupera dalla sua base di conoscenza enorme un'informazione che magari una persona non riesce a fare sul momento e poi però questo mi dà degli spunti sicuramente interessanti il fatto che me l'abbia nominata mi fa pensare aspetta sarai partito magari a fare un certo tipo di azione invece no credo onestamente che questa sorta di parlare allo specchio o parlare con qualcosa che è qualcosa ma come se fosse qualcuno sia destinato ad essere sempre più come dire pervasivo nel momento in cui ci potremmo parlare e manca pochissimo in cui potremmo caricare delle immagini quindi immaginate se io opero nelle costruzioni o nell'impiantistica gli faccio vedere una foto di una pipeline di un tubo e gli spiego guarda abbiamo un problema nell'impianto in questo punto cosa potrebbe essere cosa non potrebbe essere capite bene che relazionarsi con un'entità sia pure sintetica in questo modo in modo molto naturale cioè col modo con cui noi parleremmo con le persone ci mette in una situazione come dire di considerare quella come se fosse un'entità effettivamente è vero la psicologia della persona conta l'importante è dal mio punto di vista non dare per scontato ancora ciò che restituisce e naturalmente lo strumento è tanto più potente quanto maggiore sul tema è la competenza di chi lo usa perché evidentemente se lo usasse una persona che di internet value non conosce nulla di management non conosce nulla sarebbe costretto semplicemente a prendere atto delle risposte che gli dà e dire vabbè è buona la considero buona ok ma d'altra parte è quello che farei chiedendo a un collega cioè io ti chiedo un'opinione ci confrontiamo poi magari la verifico siamo destinati a essere sempre più intrecciati con questi sistemi secondo me siccome io sono fazioso sugli stakeholder il problema dell'empatia ce l'abbiamo anche con i membri del team quando qualcuno ci fa una stima o un leader di work package noi siamo assolutamente sensibili al fatto che per esempio ci sia una persona simpatica meno simpatica di cui abbiamo stima non abbiamo stima e anzi quello che perlomeno personalmente sto vivendo è che troppo poco ci poniamo il problema quando interagiamo con questo questo tipo di sistemi che questi sistemi non è detto che diano una risposta esatta cioè io dico sempre quando faccio una lezione a me mi fa una strisce no? se c'è qualcosa che non gli è chiaro se la dice chat cbt va bene questa cosa è abbastanza inquietante cioè ci sono dei comportamenti che comunque sia non sono caratteristici dell'integrazione con la macchina sono caratteristici delle nostre persone altri che viceversa andrebbero guardati con cura va bene grazie chiudo però con una considerazione su questo secondo me sarà sempre più difficile non considerare questi come stakeholder piuttosto che come semplici strumenti cioè un conto è lo Excel è uno strumento non lo vedo come uno stakeholder un oggetto del genere via via sempre più sofisticato mi si pone in un modo che faccio fatica a non considerare uno stakeholder e non un semplice tra virgolette strumento quindi il confine diventa effettivamente labile se poi magari cominciamo a imparare a come gestire anche le relazioni con gli stakeholder questo funziona bene ok c'è qualche dove? aspetta salve è molto interessante diciamo il discorso di trattare chat e GPT come un collega però nei fatti non lo è cioè non ha firmato mai nessun contratto di non divulgazione dei dati ad esempio quindi come trattare quindi come trattare chat e GPT come un collega nel momento in cui andiamo ad inserire all'interno di chat e GPT informazioni che dovrebbero essere riservate che non dovrebbero uscire al di fuori del gruppo di lavoro riconosciuto anche dal cliente ecco allora ok si non avrei mai fatto questo test su un progetto vero ovviamente però il discorso non è di chat GPT è di cosa questo tipo di strumenti possono fare se io prendo un large language model stile chat GPT e lo addestro con tutta la base di conoscenza aziendale con lo storico di tutti i miei progetti e lo uso all'interno quindi in maniera controllata esattamente come uso un sistema di gestione documentale all'interno della mia azienda e della mia intranet ecco che il problema non si pone più sotto questo profilo nel senso che è chiaro qui io sto facendo vedere le potenzialità di questo tipo di strumenti ma già questi strumenti possono essere messi all'interno delle organizzazioni per funzionare esclusivamente con i dati di quell'organizzazione e peraltro su questo ci sono progetti molto interessanti in giro progetti anche open source ve ne segnalo uno Cesare Cat, lo stregatto non so se l'avete sentito vi segnalo il nome di Piero Savastano che è uno youtuber, un personaggio che fa divulgazione su questi temi che stanno costruendo soluzioni che vanno in questa direzione quindi non sarà chat GPT che vediamo lo strumento di lavoro sarà un suo omologo addestrato su un perimetro di dati rigorosamente controllato in questo senso ma voi immaginate se avete un database di stime semmai diciamo ce l'avete non ce l'ha nessuno ma la raccolta dei dati storici di progetti diventa fondamentale perché un sistema del genere vi può validare, vi può fare un'analisi di attendibilità delle stime che stiamo facendo confrontandole con quelle di progetti passati dalle caratteristiche simili e confrontandoli poi con i dati a rendiconto cioè quel progetto che aveva queste stime poi come è andato? E' andato bene? E' andato male? Quindi il consiglio che io posso dare e che do sempre è questo data la velocità estrema con cui questi sistemi evolvono cominciate a raccogliere dati sui vostri progetti conservate questi dati perché questi dati magari oggi non sapete cosa farci ma nel giro di un mese, due mesi o anche qualche settimana possono diventare una miniera di informazioni preziosa per strumenti di questo tipo ovviamente vi sconsiglio vivamente e ringrazio per la domanda di utilizzare questi sistemi con dati che non siano fake cioè non usatelo mai con i dati veri dei progetti della vostra azienda evidentemente perché non c'è nessuna garanzia di come dire di protezione del dato no? Ok. Grazie. Ringraziamo Massimo Pirozzi e Marco Caressa per questo interessantissimo intervento. Grazie. 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 Grazie.